Inizio anno a palla come si suol dire per quanto riguarda il mercato delle cripto, soprattutto per Bitcoin che tenta in due giorni di aggredire il livello di resistenza più importante dell'anno 2023 e quindi a iniziare alla grande proprio l'anno 2024. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video ragazzi, come promesso oggi parliamo di quello che è tutta la questione ciclica, le analisi che riguardano Bitcoin nell'anno 2024, già pronti i grafici quelli di lungo periodo, quindi anche la candela annuale, lo scorso anno avevamo già indicato i livelli di resistenza e quant'altro, ma come promesso parto subito nel dirvi che c'era una news che volevo darvi che era importantissima, cioè il restyling e il nuovo progetto Trading On ragazzi, che parte con questa nuova veste grafica. Il lancio del nostro blog è tra le altre cose con tutti i servizi annessi che abbiamo creato. Ovviamente ragazzi ci saranno news tutti i giorni in continuazione, quindi avremo tutte le news del giorno, le analisi, nuovi tutorial che verranno pubblicati costantemente e non solo quindi l'ambito dei corsi che resta comunque ovviamente attivo sul menu corsi, ci sono tutti i corsi ragazzi, tutti i moduli che sono stati creati, ma anche i tutorial, per esempio vi faccio vedere la pagina dei tutorial che già sono stati realizzati, che verranno aggiunti costantemente. Quindi news ogni giorno pubblicate sul sito Trading On.it ragazzi e anche analisi, vi faccio vedere anche l'analisi appena pubblicata, è la prima tra le altre cose, quindi questa qui è analisi sui mercati dell'ecritto, ma non solo ragazzi perché questo è un progetto che si occupa di risolvere, diciamo di rispondere ad un'esigenza molto molto chiara e quella che viene anche indicata nella pagina iniziale ragazzi, proteggere i tuoi investimenti, accrescere il tuo patrimonio. Allora questa è la mission che si dà a questo tipo di progetto, quella che io seguo diciamo da tantissimo tempo, tra le altre cose, sposo ovviamente tutto quello che fa Trading On, ormai lo sapete, e quindi questo tipo di progetto va a legarsi con questa che è la nostra idea generale. Quindi tutto quello che troverete in questo blog sarà legato alla protezione degli investimenti, alla comprensione di cosa significa investire e utilizzare nel meglio le tecniche degli investimenti e anche tutto ciò che riguarda l'accrescimento del proprio patrimonio, quindi protezione e accrescimento ragazzi, tutto quello che troveremo qui sarà fatto in questo modo. Tra le altre cose volevo anche farvi vedere poi c'è anche il lato investing per esempio che è già pieno di tutorial, tutte strategie di investimento, gestioni del rischio, come proteggere il patrimonio, investire in crypto i consigli nel 2024 e tante altre cose. Allora, un classico blog ma con un taglio esclusivamente legato appunto come vi dicevo al trading, all'investing e a tutto quello che è il mondo generalizzato, non solo crypto quindi anche mondo classico e non solo classico anche mondo crypto perché le cose stanno sempre andando più verso una convergenza e soprattutto con la questione legata all'approvazione dell'ETF Bitcoin sì o no, questa cosa sarà ancora più evidente che questi due mercati stanno andando a convergere quello classico e quello crypto. Detto questo ragazzi proprio in virtù di questa nuova veste grafica e di questo nuovo progetto che stiamo sviluppando tra le altre cose, vi dico già che poi ci sarà anche un'area membri all'interno dove si potrà usufruire di quelli che sono dei servizi automatizzati e di questioni legate proprio all'ambito dell'investing e del training quindi anche sistemi e bot automatizzati dei tools che renderanno molto più semplice la gestione delle vostre posizioni, dei vostri investimenti in generale e sarà molto bello diciamo questo tipo di progetto, ancora lo stiamo realizzando tutto in accordo ovviamente con l'Academy ma in virtù proprio della questione legata a questo nuovo restyling e al lancio di tutto una nuova progetto ragazzi vi presento quello che è l'ultima offerta legata ai corsi che entro sei giorni scadrà e che ha una peculiarità ragazzi proprio in maniera molto semplice sono stato io a volerla a tutti i costi perché con l'anno 2024 i corsi trading on ritornano a prezzo standard quindi le promo finiscono quest'anno qui, abbiamo avuto delle promo costanti e continue negli ultimi anni ma per esempio quello che riguarda il corso Basic 2 ritornerà a 1.297 e non sarà più disponibile a questo tipo di prezzo che lo trovate in questo caso quindi io in veste di questo restyling di augurio anche di un buono nuovo anno ragazzi per gli ultimi sei giorni vi lascio questa offerta per chi volesse prendere parte nei nostri progetti quindi è fondamentale avere anche l'Academy, ve lo ribadisco perché anche l'Academy è salita anche di prezzo ragazzi quindi questi sono i ultimi giorni diciamo a queste questioni qui l'Academy è passata a 3.47 e tra le altre cose è fondamentale anche comprendere come l'Academy risulta la parte operativa del corso quindi è legata in sostanza sono legati a doppio filo perché tutto quello che io vado a spiegarvi nei corsi poi va realizzato in Academy insieme a noi dove ci sono le assistenze dove ci sono 24 ore su 24 la possibilità di scriverci messaggi vedere come si opera le mie strategie utilizzare i bot ragazzi tutto è collegato allora il Premium Pack che è quello che va insomma in questo caso assolutamente preso ve lo dico in maniera molto semplice perché il Pack Standard è lo standard quello che c'è finora e quindi ha lo stesso prezzo del Pack Premium che però ha incluso il portafoglio gestione portafoglio cripto quindi tutto quello che riguarda la questione della gestione del portafoglio cripto lo trovate nel Pack Premium e poi c'è il Master che ovviamente è in super sconto quindi 9.97 è l'ultima volta è una super offerta assolutamente ragazzi quindi molto importante 6 giorni di tempo poi chiudiamo i corsi ritorneranno a prezzo standard 1.297 per quanto riguarda il Basic chi di voi volesse quindi agire sulla propria formazione anche in vista di quello che sta succedendo in questi ultimi giorni sui mercati delle cripto su quello che è la questione legata per esempio a Bitcoin a questo super pump che abbiamo già visto è fondamentale la formazione perché secondo me l'anno 2024 ce la passiamo non bene ma super bene almeno fino ad aprile poi se ne parla andiamo a vedere tutto quello che è la questione dei grafici e dell'analisi ciclica e tecnica tra le altre cose io però vi chiedo un'ultima cosa sul progetto Trading On ragazzi quello che pensate scrivetemelo nei commenti perché il vostro feedback è fondamentale ovviamente siamo appena partiti quindi tra le altre cose è molto importante sapere cosa pensate e dove quelle informazioni possono rendervi la vita più semplice in modo tale che noi riusciamo anche a creare qualcosa che possa essere utile appunto a rispondere a quella mission che vi ho detto quindi è importante il vostro feedback nei commenti ragazzi grazie allora per quanto riguarda questa fase vi faccio comprendere intanto l'analisi ciclica di Bitcoin e poi parliamo dell'analisi di lungo periodo quindi primo step analisi ciclica di short term di breve periodo il minimo del 29 di dicembre sancisce la chiusura di un ciclo bisettimanale e lancia Bitcoin nel nuovo ciclo bisettimanale che compongono entrambi questi due ragazzi il ciclo mensile eccolo qui il ciclo mensile che dovrebbe essere più o meno intorno ai 30-35 giorni in questo caso io l'ho settato identici giusto per ma sappiamo appunto che non è così all'interno di questo ciclo mensile c'è la scadenza tecnica della questione ETF che è qui il 10 di gennaio questa scadenza tecnica come ho scritto per esempio nella analisi oggi del blog ragazzi che ho pubblicato vi faccio vedere direttamente l'articolo è in pratica collegata anche a una questione cioè questa accelerazione e lo spiego in questo articoletto che tra l'altro è veramente molto semplice insomma si legge velocemente insomma questi articoli di analisi sono proprio degli spot immediati in pratica qual è la questione ragazzi che i prezzi anticipano sostanzialmente le notizie è possibile ok? è possibile, non sicuro è possibile che questo movimento di ieri e di oggi sia una roba di una news che è già uscita si sa già per alcuni, non per tutti e cioè l'approvazione del ETF che potrebbe arrivare molto prima del 10 cioè molto no questa settimana e questa fuoriuscita di news ha già dato spazio magari a chi già sa di poter mettere mano e acquistare in anticipo in maniera tale che poi se ci sarà questo pump eventuale si prendono più benefici insomma sono entrati prima i prezzi probabilmente stanno anticipando le notizie io questa cosa qui l'ho vista tante volte lo so, non è bello, non dovrebbe essere così non c'è modo di sapere le notizie da tech però ragazzi è la realtà dei fatti quando poi andiamo a essere oggettivi nelle cose sappiamo che non è vera questa cosa qui perché un tizio parla con Caio insomma qualche news fuori esce sempre su determinati tipi di questioni quindi è possibile che ci sia magari una fuoriuscita di news e che questo movimento rialzista sia appunto collegato è anche vero che molti stanno dicendo può essere una manipolazione cioè facendo credere che stiamo per approvare e poi invece crolla ma questa cosa non sta tanto in piedi perché ragazzi ma quale sarebbe questa manipolazione perché anche volendo io credo che anche i retail insomma siano tutti dentro bitcoin da ben più da prezzi ben più bassi rispetto a questi quindi qui non è che stiamo andando a prendere liquidazioni in gran modo per cercare di fare uno shock cioè sta semplicemente continuando un trend che già era in atto perciò sarebbe stato diverso il contrario cioè se bitcoin andava a crashare che magari poteva essere un giochino no? facendo finta che magari l'ETF non viene approvato c'è la notizia non c'è la rimanda quindi creo speculazione in questo caso è difficile che stiano manipolando manipolando per cosa? cioè per prendere cosa? ecco questo è concettualmente il discorso si stanno preparando probabilmente a questa deadline che ovviamente è importantissima mercoledì prossimo ma alcuni sostengono questa settimana allora a livello di analisi ciclica c'è tanto spazio ancora per crescere perché in effetti i massimi di questo ciclo mensile attenzione non ho detto i massimi di questa fase ciclica perché qui teoricamente siamo ancora in un nuovo trimestrale ci può essere un altro mensile ancora poi che può fare altri massimi quindi salire ancora perché con grande anzi assoluta diciamo probabilità il trimestrale di bitcoin è stato chiuso l'11 dicembre su questo minimo questo è il primo mensile del nuovo trimestrale ragazzi questo significa anche che abbiamo spazio per fare massimi ben più in là e cioè anche verso febbraio marzo se non questo trimestrale se sarà anche lungo come i precedenti anche intorno appunto ai primi di marzo fine febbraio senza alcun problema e questo è la questione tecnica quindi teoricamente questa fase è assolutamente positiva e va ovviamente sempre seguito il prezzo però a livello ciclico l'analisi è questa qui ragazzi nel breve periodo abbiamo una questione legata alla possibilità che si vada a instaurare un massimo proprio in questa zona e poi chiudere il ciclo mensile e sarebbe consono e anche tecnicamente estremamente banale oserei dire ma semplice andare ad aggredire questa resistenza che è la best resistance del 2024 ora la vediamo sull'altro grafico che vi ho preparato top level quell'altro grafico e aggredirla breccarla salire fare il massimo e poi un pullback così per chiudere la questione quindi analisi tecnica da ABC con pullback finale e anche il sell on news dovuto all'eventuale approvazione cioè la chiusura poi dopo il sell on news ovviamente qualcuno di voi sta sorridendo sembra un po' dipinto sono d'accordo io non sono mai per le cose così scontate sui mercati però è anche vero che a volte sono semplici i mercati fanno quello che devono fare sostanzialmente ma noi che magari cerchiamo sempre di vedere il famoso diciamo la famosa truppa dietro l'angolo la manipolazione ma poi in realtà a volte fanno quello che devono fare anche qui bitcoin sostanzialmente ha fatto la barra di congestione riaccumulazione breccato che sta tentando attenzione il superamento dei 40 4.700 44.800 deve ancora essere confermato in chiusura della giornata di oggi ed è importante che avvenga non ci sono segnali nel breve periodo di inversione tra le altre cose qui siamo al quarto giorno del ciclo anche settimanale si può arrivare anche ad 8 quindi domani dopo domani potrebbe essere ancora forte il mercato e andare ad agire al tentativo di toccare questo livello di resistenza che è a 46.500 che è il livello di resistenza più importante in questa fase di breve andiamo a vedere la questione legata invece all'anno 2024 prepariamoci all'anno 2024 in questo momento dettando quelle che sono i livelli di resistenza dell'anno 2024 poi li aggiorniamo però dopo la questione ETF perché è importante guardare cosa succede cioè la questione ETF ragazzi è perché lì è un dato oggettivo molto imponente e quindi mi dà l'idea che vada vista allora vi faccio vedere il livello della best resistance che era la seconda resistenza del 2023 quando era stata trasladata la prima era intorno ai 28 ai 38 che era questa qui che avevamo poi raggiunto era di meno un po' ero 35 una cosa del genere e poi abbiamo stravinto questo anno 2023 molto al di sopra delle aspettative perché la prima resistenza vedete era 28 e il gioco era già fatto invece il mercato poi ha super performato molto al di là di quello che sono numeri standard ora si trova di fronte alla resistenza a 46.500 che già vi dicevo in molti video precedenti essere la resistenza è importante perché è anche la chiusura massima storica annuale di bitcoin cioè il bitcoin il massimo storico lo ha fatto prezzi bit stamp in questo caso ha incluso a 46.200 ragazzi 46.200 annualmente sono i massimi storici di bitcoin quindi questo livello di resistenza è molto importante perché un breakout qui sancisce sostanzialmente un rientro in un trend di lungo periodo rialzista e tra le altre cose non c'è nulla qui quindi in pratica questa shadow ha poca rilevanza perché è vero che lì sono stati battuti dei prezzi ma a livello annuale c'è poca rilevanza andiamo a stamparci quelli che sono i livelli di resistenza successivi ovviamente i massimi storici sarà una resistenza anche psicologica del 2024 e la mettiamo in questo modo in questo modo qui ragazzi ok resistenza 2024 dopodiché andiamo a comprendere anche la questione questa qui diventa la prima resistenza di nuovo del 2024 è la più importante in questo caso questa qui non è più una resistenza ma cancelliamolo perché il 2023 è finito vi faccio aggiornare insieme queste cose andiamo a vedere invece i livelli di supporto questo è un primo supporto per il 2024 che è un supporto lontanuccio lo so lo so 30k sono lontani in questo momento e poi l'altro diciamo è questo qui sotto questo lo eliminerei in pratica e questo è invece il minimo dell'anno quindi supporto 2 che però è veramente molto 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 lontano quindi lo inseriamo per correttezza verrà difficile che arrivi diciamo a meno di disastri colossali insomma fino a a quel livello ok ragazzi questi sono stati i due livelli inseriti qui abbiamo resistenza 2 e lì la resistenza 1 questo per quanto riguarda l'anno 2024 in questa prima fase però 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 già vi dico che essenzialmente poi dovremmo andare a fare un altro tipo di meccanismo che faremo nei prossimi video cioè andare ad inserire dei livelli di resistenza previsionali che non entrano nella price action del passato di bitcoin perché sostanzialmente entrando se dovesse rompere appunto questi 46,5 entrando in una terra di nessuno che è questa zona qui cioè da 50k sostanzialmente 47 e qualcosa fino a 69 è la terra di nessuno a livello annuale ci possono essere anche degli atteggiamenti diversi da bitcoin per non parlare del superamento della resistenza numero 2 che poi avverrà se avverrà ovviamente sarà dirompente da un punto di vista di ultimo grafico vi faccio vedere quello che riguarda la questione del grafico mensile pulitissimo e bellissimo 1 2 3 4 5 candele verdi con quella attuale che però è appena iniziata e dovremmo vedere come performa cioè il mese di gennaio siamo solo a 2 gennaio quindi bisognerà comprendere guardate anche qui a livello tecnico come questo livello di resistenza è il più importante e come al di sopra di questo livello di resistenza ci sono solo poche oscillazioni che riguardano appunto un canale una barra di congestione importante che però ragazzi non ha volumi consistenti e tra le altre cose non ha appigli consistenti se volessimo proprio trovare alcuni livelli intermedi io oserei dire che questo è un ottimo livello 52k è un ottimo livello e lo inseriremo anche come altra resistenza quella immediata dopo e se il mercato riescerà se bitcoin riescerà a superare questa che invece è quella principale di 46.000 è qualcosa 46.500 io dico che se non facciamo almeno 47 non ci chiudiamo almeno un giorno e poi la settimana quella resistenza non sarà superata perché quella resistenza è molto importante e sarà la più importante di questa prima fase ragazzi bene allora vi ho detto tutti cosa ne pensate qualche giorno oggi è martedì qualche giorno e sarà approvato l'etf spot di bitcoin chi di voi la pensa così scrivetemelo nei commenti lasciatemi un mi piace per questi video io vi auguro un buon inizio settimana quella vera è iniziata ieri ma in realtà quella vera inizia oggi con i mercati open e soprattutto con numeri stellari mi raccomando non andate contro trend ragazzi ok ciao a tutti vi ricordo le offerte anche dei corsi poi ne parleremo anche nei video successivi non vi fate scappare questa possibilità a prezzi descontati e soprattutto il pack premium con l'aggiunta del modulo portafoglio cripto fino a sei giorni quindi scade fra sei giorni mi raccomando ragazzi lascio il link in descrizione ciao a tutti ciao a tutti